La prima schiacciata probabilmente ero in seconda o terza media, perciò ero abbastanza piccolo e i miei compagni mi dicevano prova, provaci, provaci, perché ero un po' più alto di loro e io non pensavo di farcela, invece ci sono riuscito agilmente, perciò da lì ho provato a farlo in altri modi e è diventata la mia peculiarità. Ero sicuro di arrivare in una buona società, in una situazione utile per la mia crescita, perciò la mia scelta è stata abbastanza sicura e rapida, perciò sono contento della mia scelta, dai primi momenti qua già posso riconoscere questo. Nel basket di oggi un lungo deve sapersi muovere in più ruoli, non esiste più magari il lungo che c'era anni fa che sta in mezzo all'area e non si muove mai da lì, riuscire ad uscire anche fuori, saper tirare da tre punti o comunque avere un raggio di tiro più elevato rispetto ad anni fa, essere abbastanza rapido è un basket che sta diventando sempre più atletico, più simile a quello che è il basket americano, sono contento di riuscire a giocare più ruoli, perciò questo mi permette di avere più minutaggio e avere anche più margine di errore. Ma diciamo studio, faccio l'università online, faccio scienze motorie, poi mi piace molto guardare film, leggere libri, insomma i soliti hobby e basta, insomma passare il tempo con gli amici quando è possibile e basta. I nostri tifosi auguro una buona stagione, spero che veniate numerosi, ci sarà da divertirvi e ci toglieremo tante soddisfazioni insieme. Grazie a tutti!